e ciao a tutti ragazzi qui è undercard che parla e bentornati a questo nuovo video di fallout shell ed è un bel po' che non ci giocavo anche a questo però va bene non importa ci dice che una zona contaminata ho fatto la missione per poi non è morto c'è si rianimarlo però è però tu tu qua però me la fai ah dai va bene lo rianimo si jason adams lo dovevo rianimare ero costretto oddio si la musica aspettalo a te si ho visto che sta tornando jason adams non so se com'è cosa hai la i ma io c'ho un altro ancora da si vabbè ma sono morti tutti si animiamo li animiamo tutti quanti senti però siete proprio scarsi guarda una città tu hai una buona i l'intelligenza dove ti metto a lavorare con l'intelligenza allora io ho visto che per uno son e si ma te dove lavoravi in infermieria sicuri ma sicuri sicuri ma a sto punto io li lascio anzi lui ha la più alta parecchio alta ti ho mandato dentro ma che mi ha fatto solo ma dai ma mi hanno cambiato solo la mensa non ce ne ha l'un no dai che noia e a parte questo allora continuiamo e a sto punto io farei un altro centro medico questo però è potenziato quindi non si collegano purtroppo e mandiamo te qua dentro ok le strand mi ha preso ma che figata oddio la scuola si muove oh yes o forse perché questa è è quella che ho potenziato di più per quello oh queste sono le cose che mi piacciono nei videogiocchi eh sì che sono le cose che mi piacciono oh questo sì che è una roba bella inoltre abbiamo tipo i missili nel volto perché queste armi sono solo disegnate non le posso avere perché? vabbè sì a me eh sì quell'uno che mi segnava era la tizia qua allora voglio vedere ormai siamo poveri eeeh sarà fit scusa che dovevo sbloccare ah il bar si via il caso che se continuiamo così facciamo la fine dei romani ah una lenta emorragia d'oro per via degli scambi fatti male eeeh o di problemi economici che c'è la mina perché perché non avevo più soldi per combattere e per schierare nuo cioè per arruolare più gente nell'esercito e questo è quello che ha distrutto l'impero romano io non volevo fare la fine dell'impero romano per carità solo italiano però ecco diciamo che non vorrei proprio fare la fine non vorrei morire tu però ti sei curato da solo e perché non ti sei preservato voi se ti sei curato da solo un po' di domanda? non lo so purtroppo che soldato eeeh ho usato il radaway ma lei l'ha usato il radaway perché lui no? non posso cliccare però per no vabbè eeeh ok posso portare molto sempre benissimo sempre benissimo non c'è la tutta più qua sta qui oh steampack tieni 20 steampack non è difficile coloro 2 tre è veramente stimpato che non mi sembra difficile eeeh oh ciao sean tu non dovresti stare tu è mio l'ufficio d'accordo tu sei la c alta la c alta va bene va bene va bene va bene ti può stare non sei vista la elfo è vero che lui ha fatto la elfo quindi se io mi tolgo questa ah no fanship sci-fi scherzo cosa fa la mani aspetta a te questa non aiuta niente allora a sto punto a te ti metto l'armatura da battaglia ah allora cosa c'hai fai qua ci sarà qualcuno che non ha niente sì lei ti do perché non la trovo ah no tutto l'operaio dai anche questo va più che bene te cos'hai niente perfetto cioè ha la tutta la volta ma la tutta la volta non fa niente però gli do questo dov'è lo scientifile dov'è lo scientifile dov'è lo scientifile sci-fi non ho idea andiamo qua fai il comment no aspetta perché adesso mi segna via tutto ecco qua c'è una più due tu e te non ho cimi ah no ne ho una cip e due questa è dell'iniziale eeeh dopo dei che dopo dei chi è dopo dei chi è ho qualcosa che a mente l'essere non mi sembra ah vedi qua fai sci-fi me lo fa vedere e dai ragazzi e dai e dai chiede attacco terroristico che bello ah orco cane senti tu prenditi quello che fa più danno inventario no inventario vai ce la rotaia a te tu devi prenderti quello p dov'è oh fin tempo perché ho sentito un nananana giuro ah perché forse ho fatto così su un personaggio nel frattempo è salito di livello abbiamo stravito abbiamo stravito guardate come se riparo il portello se non ricordo male sì perché oh bella bella ti resta tutto qualcuno qua che lavora oh tu dai tu hai level appato te lo metto te lo metto vedi posso usarlo solo non do per tutto non so no il cp2 oh se il quale stete posso mettere solo non a tutte non so perché tipo no voi ce l'avete tutti ormai no 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 tipo adesso me l'ha messa sci-fi ma no vedete tutto non c'è sci-fi non so il perché wow ma voi siete tutti questo in realtà il cino da più 2 ho qualcosa addirittura di più ma vedete non me li fa non me li da tutti non so perché ecco te ti aumento la questo da cp4 mamma mia cp4 tantissimo ma vedi perché ad esempio a lui gli da vestiti sci-fi è lei no punto di dito d'ora ottimo non sto capendo mi dirò non capisco proprio senti a te ti do questo che dà più di uno al bambino le darò quello che gli aumenta la c sì così proprio no alla fine non ne ho più mi sembra forza tocchiamo qualcosa no lavorate aspetta ho fortuna perché mi aumenti la fortuna questo vuol dire facendo uno sprint scendere a percentuale fantastico poi quando avremo il bar sarà il vento ok ok non è mai passato non è mai passato l'altro mister c'è anche il rumore Mr. Andy è arrivato ha fatto qualche curva in più adesso è un po' con il figlio che mi sta rubando il lavoro ok lo stia accadendo ma la scopa si muove e sta lavorando al posto del mio Mr. Andy va bene comunque ragazzi direi che per questo vede tutto da Pendergarde è tutto e ci vediamo ad un prossimo video adesso ci siamo a vedere ad un prossimo video con un bellissimo level up finale naturalmente anche iscrivetevi e lasciate il like al video vabbè troppo che vi siete iscritti però non sto già per dimenticare attivate la campanella se no è ovvio che non vi arrivano le notifiche e lì cosa fai? eh no eh non dovete perdermi i miei video non so queste due stanze sono quasi uguali il potenzialmente non cambia quasi nulla comunque ciao 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 ciao